È stata presentata la prima edizione della Fiera Toscana del Lavoro in programma il 5 e 6 dicembre prossimi alla Fortezza da Basso. L'obiettivo è quello di avvicinare i giovani alle aziende e al momento sono circa 230 i profili professionali diversi per oltre 650 posti di lavoro disponibili. Le aziende che hanno confermato la loro presenza sono più di 100, molte delle quali importanti realtà sia a livello nazionale che internazionale. Quindi cerchiamo proprio in questo caso anche fisicamente di mettere in relazione una serie di aziende, una serie importante di aziende. Qui è rappresentato veramente il tessuto produttivo toscano in tutti i settori strategici, sono presenti aziende anche di livello nazionale e multinazionale con chi cerca lavoro, principalmente giovani ma non solo. L'elenco completo delle aziende presenti alla Fortezza da Basso è consultabile sul sito www.fieratoscanalavoro.it. Agevolare il processo di incrocio tra domanda e offerta è decisivo per avviare i giovani nel mondo del lavoro. È stata una grande fatica organizzarlo ma credo che sarà davvero anche un po' una sorpresa, una novità per Regione Toscana. Del resto il lavoro entra a pieno diritto nelle attività di core business della Regione, quindi le politiche del lavoro avranno sempre di più un'importanza rilevante attraverso il nostro sistema di centri per l'impiego e la nostra agenzia. Fino al 15 novembre è possibile presentare la propria candidatura sul sito dedicato alla Fiera Toscana del Lavoro dove si possono scorrere le offerte disponibili, divise per settori. I candidati selezionati saranno poi invitati ai colloqui con le aziende nelle giornate del 5 e 6 dicembre alla Fortezza da Basso.